Una donna di mezza età lavora in carcere e si sente sola e conosce un detenuto. Rischiava la pena capitale e lei voleva salvarlo. Sembra un disgustoso romanzo rosa, secondo me. Ogni donna vuole sentirsi amata. Lo consideravamo molto pericoloso. Ho pensato, oh mio Dio, si fida di lui che hai fatto, Vicky. Aveva dedicato la sua vita al lavoro. Le ho chiesto quando andrà in pensione e lei molto presto e me ne andrò in grande stile. A un vecchio Casey White piace corteggiare le donne. Vicky e Casey hanno lasciato il carcere stamattina e non sono ancora tornati. Dovevano sapere che non sarebbero mai riusciti a farla franca e che non avrebbero vissuto per sempre felici e contenti. Non hanno deciso da un giorno all'altro. Mi ha detto, sto scrivendo una lettera. Come si scrive, è bellissima. Gli passava una busta e lui ne dava una. C'era parecchio... ...telefonico. Lei conosceva i rischi, ma non le importava. Stavano commettendo degli errori. E ben presto noi li avremmo sfruttati. Se avessi saputo che si era messa insieme a quel tipo, considerando quello che lui avrebbe potuto farle, avrei provato a farla ragionare. Erano solo due persone con due vite diverse che si sono innamorate. Oddio, lui la ucciderà. A presto! Grazie a tutti.